L'inno cantato da Lady Gaga, lo show di Jennifer Lopez, libertà e giustizia per tutti. La poesia della giovane Amanda Gorman. Inizia l'era Biden, ha vinto la democrazia, il giorno della speranza, il giorno da cui ripartire per ricostruire l'unità di questo paese. Giura, la moglie Jill si commuove. Prima tocca a Kamala Harris. Gli Stati Uniti hanno una vicepresidente donna. Niente banchetto inaugurale e primo ballo, ma non rinunciano alla camminata in Pennsylvania Avenue. La cerimonia della firma nella stanza del presidente e l'omaggio alla tomba del milite ignoto al cimitero di Arlington. Deposizione di fiori, presenti anche gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama con le consorti. Poi la firma di un pacchetto di decreti urgenti, pandemia, immigrazione, clima, economia, le priorità dell'America e del nuovo presidente che ha fretta di cancellare quattro anni di Trump. Una lunga giornata che si chiude con lo show televisivo in prima serata. Parata di stelle condotta da Tom Hanks, da Bruce Springsteen a John Bon Jovi, Justin Timberlake, Kate Perry, celebrating America, l'anima ritrovata degli Stati Uniti. E in questo servizio di Marco Clementi, dell'inviato del Tg1 Marco Clementi, la sintesi della giornata dell'America, come ha detto appunto Joe Biden, il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Allora continuiamo a parlarne con il nostro corrispondente e inviato a Washington Claudio Pagliara e con Francesco Costa, esperto degli Stati Uniti e vice direttore del Post. Cominciamo proprio con Claudio. Claudio, io ho notato guardando ieri le dirette da Washington che tutta la cerimonia e la regia televisiva della cerimonia aveva una priorità ed era quella di mostrare la multietnicità della società americana e anche il carattere degli Stati Uniti come un paese di immigrati, perché basta guardare la cantante di origine italiana, la cantante di origine ispanica, eccetera. Hai avuto anche tu questa impressione? Assolutamente. Questo è il messaggio subliminale, se vogliamo, al di là delle parole che passa attraverso la scelta curata di chi è stato invitato a esibirsi. Quindi sicuramente la presenza femminile, la presenza afroamericana, la presenza latina, diciamo le varie componenti della società americana, così come peraltro, Marco, lo stesso governo americano, l'amministrazione che Biden ha voluto formare contiene esattamente i volti dell'America. Dice Biden, ha voluto fare un'amministrazione che rassomiglia a questo paese. È il governo col più alto numero di donne mai che l'America abbia mai avuto, cioè praticamente sono state contate, più o meno sono lo stesso numero di donne, lo stesso numero di uomini e questa è anche un po' una svolta storica per questo paese. Francesco Costa, insomma, il richiamo all'inclusione, il richiamo all'unità, anche il pezzo che J. Lo ha cantato, My land is your land, indica, sono tutti segnali che vanno in questa direzione. Joe Biden richiama a un certo punto, fa un enorme richiamo alla verità, al fatto di non essere manipolati dalle informazioni, alla necessità di abbassare i toni e di risolvere le conflittualità, diciamo, con una maggiore pacatezza, se così possiamo interpretare. Che cosa sono? Segnali, diciamo, ad un'era che dobbiamo considerare terminata? Buongiorno, sono sicuramente segnali importanti da parte di Biden, ma quest'era è tutt'altro che terminata, purtroppo, per gli Stati Uniti. Il 6 gennaio abbiamo visto un attacco armato al Congresso, ma la cosa importante che ci segnala su questo tema il discorso di Biden, secondo me, è che questa storia non è cominciata il 6 gennaio e non è nemmeno cominciata con l'amministrazione Trump. Gli Stati Uniti si sono radicalizzati negli ultimi 20 anni e quindi la missione di Biden per unire questo Paese è particolarmente complicata. Ci sono molte ragioni economiche, demografiche, culturali che oggi tendono a dividere gli americani e allontanarli. Parliamo prima dei primi 17 provvedimenti che il Presidente Biden ha firmato immediatamente dopo il giuramento e che costituiscono una immediata, diciamo, sterzata rispetto a tutta la politica di Trump, perché dal clima al muro, gli immigrati e la pandemia, eccetera, è una svolta fortissima o no? Lo è sicuramente, lo è sicuramente. La descrizione di un'amministrazione completamente diversa, di un piano, di un progetto di Paese completamente diverso da quello degli ultimi 4 anni e che io credo Biden vorrà perseguire con particolare aggressività, soprattutto nei primi mesi del suo mandato. Questa è anche la sua storia politica. Biden è un politico molto esperto, sa dove mettere le mani. Ha passato 36 anni al Congresso, ne ha passati 8 alla Casa Bianca da Vicepresidente. Mi aspetto un inizio molto forte con dei gesti anche, non solo simbolici, ma politici veri. Si parla di salario minimo, si parla di un grosso stanziamento per far ripartire l'economia e di una riforma dell'immigrazione profondamente diversa dalle idee, dai principi della precedente amministrazione. Non so se Claudio Pagliara vuol tornare, magari coinvolgiamo sia Francesco che Claudio Pagliara, perché Claudio, insomma, ieri non c'è dubbio che l'altra grande protagonista sia stata Kamala Harris nel suo straordinario completo viola, viola che è stato peraltro il colore della sua campagna elettorale, se non dico male. Quanto sarà importante il ruolo di tutta la componente femminile nella squadra di Biden per il futuro dell'America? Sì, una nota, come dire, è stato sottolineato che il viola è composto dal rosso e dal blu, che sono, come sappiamo, i due colori dei partiti americani. Quindi, in qualche modo, anche lì, se vogliamo parlare di messaggi subliminali, c'era un invito all'unità, almeno così è stato letto da alcuni esperti di semiologia. Certo, il ruolo di Kamala Harris è stato prima donna e prima donna afroamericana con origini indiane vicepresidente. È davvero, forse, in una giornata storica, l'evento più storico che è accaduto negli Stati Uniti. È certamente il ruolo delle donne, così tante donne in primo piano, negli Stati Uniti non si erano ancora mai viste. È certamente un segno, un segno che questo paese è pronto, forse anche in un prossimo futuro, chi sa, le prossime presidenziali, vista anche l'età di Joe Biden avanzata, a un passaggio del testimone e ad avere per la prima volta un presidente donna. Certamente è una grande svolta, un grande ruolo per le donne. Ancora una domanda per Francesco Costa. Dobbiamo aspettarci Stati Uniti che tornano ad avere un ruolo di equilibrio sotto il profilo geopolitico nel mondo? Sì, o quantomeno che ci provino, assolutamente. Biden ha parlato molto di multilateralismo, ha parlato molto di un ritorno degli Stati Uniti nella scena internazionale dove in questi quattro anni si era assistito a un ritiro e questi vuoti lasciati dagli Stati Uniti erano stati presi da altri paesi come la Cina, come la Russia, come la Turchia e in certi altri contesti. Certo non sarà facile perché il mondo è cambiato rispetto agli anni in cui gli Stati Uniti erano l'unica superpotenza e anche rispetto agli anni dell'amministrazione Obama di cui Biden era vicepresidente. Ma Biden si è occupato a lungo di politica estera nella sua carriera e io credo che ne vedremo anche noi europei i frutti presto di questa attività diplomatica e di questa esperienza e di questo approccio diverso rispetto a quello che ha fatto la precedente amministrazione. Un po' più di professionalità alla Casa Bianca. Grazie, grazie a Francesco Costa, grazie Claudio con cui ci torneremo a collegare più tardi. Buon lavoro ad entrambe naturalmente.